Stanotte è stato ricoverato al Cotugno il Cardinale Sepe, colpito dal Covid, vuole mandargli un messaggio? Assolutamente, l'ho già fatto chiamando Enzo Piscopo, sono stato informato ieri sera, siamo stati in contatto in questi giorni, ovviamente auguro, non solo a nome personale, ma di tutta la città, al Cardinale una pronta guarigione per presto ritrovarlo nella missa che doveva celebrare domani del suo commiato con la città di Napoli, quindi immagino saranno giorni difficili, ma saranno giorni che ci porteranno nuovamente a incontrarlo nel fare il saluto alla città dopo tanti anni di Cardinale di Napoli.